Per un appuntamento continuare? Per un appuntamento... Non si può torturare così? A me è torturare, cosa vuoi dire? Ma scuola, c'è un caso di malassanità, a tutti i cittadini può succedere? A meno per una... Non ci torturare così, ecco, quella risposta di Casalino. Stasera torniamo a Roma, sì? Sì, ieri in effetti eravamo arrivati a Pini, Piscini. 1, 2, 3, prova. 2, 3, prova. Come? 3, 2, 3, 4...